Ancora oggi è famoso per una frase pronunciata quasi 40 anni fa, il split you in tu che è stata tradotta in italiano in ti spie. Lui è Dolph Landgren, 66 anni, attore svedese naturalizzato statunitense che ha interpretato il ruolo di Ivan Drago in Sono onorato che tante persone ancora ricordino quella frase che pronunciai 30 anni fa. Ci sono altri film depositati nell'immaginario collettivo gratis. I primi che mi vengono in mente sono, il be back, sono tornato, che dice Schwarzenegger in Terminator, go ahead, make my day, coraggio fammi felice, di Clint Eastwood Insight. I primi che mi vengono in mente sono, il be back, sono tornato, che dice Schwarzenegger in Terminator, go ahead, make my day, coraggio fammi felice, di Clint Eastwood Insight. I primi che mi vengono in mente sono, prossima settimana sarà in Sardegna per presentare il suo nuovo film, The Wanted Man, al Filming Italy Sardegna Festival, la rassegna ideata e diretta da Tiziana Rocca in programma. Prossima settimana sarà in Sardegna. Portava i capelli lunghi ed era molto abbronzato. Io ero un nervoso ragazzo di 26 anni. Ero un campione di karate. Lui mi disse che dovevo mettere su qualche... Ora siamo grandi amici, parliamo delle nostre figlie e delle ferite. Penso di avergli causato un colpo al cuore durante un combattimento che lo costrinse a essere ricoverato in ospedale per una settimana. A ricord... Penso di avergli causato un colpo al cuore durante un combattimento che lo costrinse a essere ricoverato in ospedale per una settimana. A ricord... Sotto la corazza l'animo di una persona che ha dovuto affrontare molti momenti difficili come ad esempio il cancro, l'ho combattuto per sette anni. Mi ha insegnato delle cose, soprattutto a ripensare e amare l'incredibile vita che aveva avuto fino allora, e ad amare di più il po'. Ora provo ad essere gentile con tutti. Il cancro mi ha profondamente cambiato, ha rivelato Lundgren, ma prima del cancro del corpo ci fu quello dell'animo, se così si decise di fare l'attore per senso di vendetta. Una reazione a mio padre, che fisicamente, da quando avevo 4 anni fino ai 13, ha commesso degli abusi su di me, ma li ha decise di fare l'attore per senso di vendetta. Una reazione a mio padre, che fisicamente, da quando avevo 4 anni fino ai 13, ha commesso degli abusi su di me, ma li ha decise di fare l'attore per senso di vendetta. Mi volevo sentire forte in modo tale da potermi proteggermi. Adesso un altro capitolo della sua vita, quello da regista in un thriller d'azione intitolato Wanted Man che si vedrà al festival in Sardegna, di cui mi parlano un gran bene dove non vedo l'ora di un post condiviso da Dolph Lundgren-Chiocciola Dolph Lundgren. Grazie 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 Grazie